fratellini e razzurri amici di facebook e instagram buonasera a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon martedì buon martedì roba roba africana roba africana caldo torrido africano si capisce un ghezzo oggi mi sono allenato oggi ho posticipato di tre ore all'allenamento ma tanto non serve a una emerita fava ma ma neanche al mattino perché stamattina per pisciare le 5 e mezza e già faceva caldo non c'era un filo d'aria quindi sono giorni un po così speriamo che passi in fretta caldo ci deve essere ma il caldo giusto cazzo non a 36 gradi al vaffangulo detto questo ragazzi detto questo volevo parlare un po con voi di calcio mercato di raduno di maglia di sponsor di vari sponsor però però voglio iniziare facendo un grande applauso al 95 97 per cento degli youtuber presunti interisti su youtube ma forse non si sono resi conto di chi ci ha lasciato un pezzo di storia dell'inter un pezzo di storia dell'inter io non dico cioè neanche io l'ho vissuto va bene i racconti di mio padre tutto quello che volete ma voglio dire se se ne va bellugi si dedica un video marionino corso un video suarez un video un pezzo di video cinque minuti un titolo una foto una cosa no 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 perché non fa audience non fa audience hai capito c'è poco da fare quindi per l'ennesima volta per l'ennesima volta tanti che 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 sono seguitissimi se grandi canali nero azzurri seguitissimi adatte di tanti questo poi è quello che che è nel corso degli anni quindi complimenti veramente a tutti poi si definiscono interisti loro interisti sul tubo minchia ora non cambierei il mio interismo ma ma neanche veramente un briciolo con la gente che vedo sul tubo ma detto questo calciomercato inter qui siamo a due giorni praticamente dal raduno e siamo per il momento è perché si sta incanalando tutto però ad oggi siamo senza una maglia perché non è ancora stata presentata e negli ultimi anni da da socios diciamo ci ritroviamo sempre così l'anno scorso di digital beat quest'anno adesso vedremo però vi ricordate invece e anche le altre squadre lo fanno ancora che più o meno se non l'ultima la penultima giornata di campionato viene già presentata la maglia nuova quindi sembrerebbe sembrerebbe che si stia andando a dama con paramount paramount plus che è una figata è bellissimo io ho già espresso in mio giudizio per quelle due partite una una di campionato e soprattutto la finale di champions è stupendo ci sta da dio sulla maglia tra l'altro non mi ricordo se ieri o l'altro ieri girava una foto della prima maglia perché la seconda sarà presentata in giappone da quello che ho capito la prima maglia che ha il logo giallo che è più bello è più bello di quello bianco il colore giallo almeno c'è il nero l'azzurro il giallo e il giallo della paramount quindi è veramente una figata sarebbe veramente una figata finché non ufficializzano però sembrerebbe che quindi e siamo senza portieri perché si vabbè rientrano chi è che forse rientra radu rientra radu credo stankovic e c'è di gennaio che è andato ieri a firmare ma non so se ci sarà quindi onana è in direzione united ancora anche lì per trubin si pensava a 10 forse 15 questi sparano 35 quindi al momento siamo senza maglia senza sponsor perché devono ancora ufficializzarlo senza portieri portieri perché a sto punto anche andanovic penso che se ne andrà e si sta aspettando di capire cosa fare c'è stato un altro rilancio per lukaku e lì bisogna quagliare veloce lì lì bisogna quagliare veloce perché avete visto che cazzo è cosa è diventato adesso visto oggi 150 milioni di euro in tre anni per poco va per tentarlo cioè qui come ti muovi ti muovi mi linko vi savis verso 40 zucche 40 zucche e se ne va anche lui in arabia molto probabilmente ma che cazzo è diventato è uno schifo cioè è uno schifo per quello dico e l'ho detto mille volte quando siamo arrivati in finale vuol dire tantissimo essere arrivati lì perché noi l'int la povera inter è conciata come con zan che non si capisce ancora che cazzo vuole fare della propria vita del suo futuro anche lì anche lì un po di chiarezza un po di qualcosa sì sappiamo che forse sta cercando quello il prezzo 850 nomi si sono sentiti in due anni e poi e poi forse rifinanzi quindi un po di chiarezza anche lì perché non si capisce un cazzo poi lui c'è i suoi impicci personali e vabbè però quindi al momento la situazione è questa poi se si quaglia con lukaku però devi aspettare adesso onana quindi quindi è vero quello che avevo detto io io feci un video o io vendere onana per prendere lukaku non lo farei e in tanti hanno detto no ma mica vendi onana per prendere lukaku e dove cazzo li prendi i soldi per pagarlo questo qua amici sono quelli di brozovic ma quelli di brozovic credo che fossero abbastanza garanzia per frattesi tant'è che come fatto brozovic si è andato su frattesi però frattesi non lo paghi quindi quei soldi di brozovic vanno su lukaku ma non ti bastano devi aspettare onana devi aspettare comunque una parte da onana ti serve per essere più coperto no magari non arrivare a 45 che vogliono loro però arrivare a 35 40 ti serve onana cioè la cessione di onana quindi il problema poi è vabbè sommer andrebbe benissimo andrebbe però questo trubin cioè futuribile tutto ci sta dentro ci sta ma lo devi prendere lo devi prendere alle condizioni che si sapevano no questi che hanno sparato 35 se no se no devi virare su altro si parla di carne secchi che comunque un buon portiere anche lui è giovane però insomma poi c'è il discorso quindi giovedì dovrebbero presentare la maglia la nuova maglia la prima col nuovo sponsor poi è venuto fuori il discorso sponsor tecnico quindi la nike nike insomma ragazzi qui si parla che tra paramount più nike sono 50 milioni di euro all'anno che sono 20 di paramount e un trentino di nike scusate di nike poi c'è ebay che non mi ricordo cos'è un 5 all'anno e rimane ebay credo e poi adesso devi trovare retro sponsor quindi insomma se tanto mi da tanto un 50 è una maglietta che 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 varrà sui 60 milioni all'anno e non è male non è affatto male se arrivasse a quagliare adesso bisogna vedere retro sponsor ma soprattutto paramount cioè paramount cosa vuoi dire come sponsor speriamo 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 che si faccia che 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 si incanali tutto insomma perché al momento la situazione è questa quindi ho letto che forse hanno posticipato che domani c'era il raduno del celsi ma luca con un vuole andare al raduno e forse lo hanno posticipato insomma per dare più tempo non lo so io penso che come sono messi le parti per forza bisogna bisogna portare qua romelu perché lui vuole venire a tutti i costi qua il celsi se ne deve liberare l'inter lo vuole insomma però devono accelerare i tempi con chi con un anno al suo punto cioè devono sembra che sia tutto fatto il suo contratto col manchester e tutto bisogna vedere questi qua quanto arrivano l'inter da 60 55 60 vuole perché se no non non riesce a fare l'ucaco e l'ucaco non è che non ne ha di offerte perché anche lì l'arabia è andata a bussare e l'al nas e l'allilat e la kikad e capocchiad e scava fa fangulo va e non si capisce un cazzo non si capisce una minchia tutti qua bo 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 stanno prendendo tutti stanno prendendo sa che campionato della madonna che faranno il campionato delle figurine non è che è che come il pari san germen è roba di figurine così questo è il campionato delle figurine quindi speriamo speriamo di di chiudere il discorso lukaku per poi vedere quale potrebbe essere la quarta punta magari in questo mese e mezzo qualche qualche offertina per percorrere arriva non lo so e speriamo di cambiare anche lì quindi avresti due quarti due quarti di edigno un guinto di due quarti di attacco nuovo a centrocampo frattesi l'hai già preso vediamo se anche lì il sogno sarebbe samarzic però con i soldi di onana ti garantirei cioè con i soldi di onana devono devono devi sistemare un attimino il bilancio devi prendere i portieri due portieri devi quagliare un po per lukaku poi che cazzo t'avanza non t'avanza niente quindi samarzic come lo vai a prendere con gli esuberi non lo so se no c'è perera sulle fasce laterali per il momento devi rimpiazzare belanova perché comunque o comunque belanova se darmian torna al suo posto ce n'hai due comunque devi andare a rimpiazzare il posto di screener quindi ce n'è da fare ce n'è da fare ancora però adesso è tutto bloccato perché sta cosa di onana sta bloccando tutto quindi siccome abbiamo visto che basta da un giorno all'altro e se ne sono accorti le altre squadre perché sembrava che addirittura aveva in vantaggio arrivata l'inter tattac ciao quindi è un attimo anche al contrario l'abbiamo visto anche l'anno scorso ad aspettare aspettare quindi speriamo che si quaglia il tutto per quanto riguarda la maglia lo sponsor la maglia mi piace ve l'ho già detto soprattutto quella che sarà presentata in giappone la seconda maglia è stupenda finalmente e neanche a farla opposta riprende un po quella che era la maglia appunto di lusito suarez quando abbiamo vinto la la seconda era la seconda coppa dei campioni perché la prima la prima avevamo la maglia nera azzurra con al madrid 3 1 quindi quella maglia lì del 65 da trasferta però non credo col col come si dice con lo sponsor in quel caso giallo lì probabilmente sarà bianco sarà sarà bianco sarà bianco perché c'è la banda nero azzurra si vedrà si vedrà tant'è ragazzi che ci siamo ormai tante squadre hanno già ricominciato noi si ricomincia domani credo che c'è la conferenza stampa di in di in zaghe marotta e da dopo domani ricomincia questa nuova stagione quindi ci siamo rica abbiamo ricaricato un po le batterie partiremo a vedere un po queste amichevole a commentarle insieme come come ogni anno dopodiché insomma si va in ferie anche noi commenteremo un po quello che sarà il calciomercato perché comunque parte che anche quando finisce è sempre calciomercato ma è tutto l'anno calciomercato ma detto questo poi il 20 inizierà il campionato in quel weekend lì quindi con inter monza quindi siamo a un mese e qualche giorno dall'inizio dall'inizio del campionato così come è passato un mese un mese un giorno da quella finale malefica quella finale malefica che però abbiamo avuto ma io dico che è stato bello giocarsela comunque è stato grandioso il cammino è stato fantastico giocarsela e ancora se ci penso non mi sembra vero quindi ripeto mi sta piacendo quello che sto vedendo dobbiamo un attimino accelerare i tempi però perché siamo stati fermi questi tre quattro giorni e vedi poi le voci come arrivano vedi correre dallo sport zacquaroni vezzacquaroni come si sta divertendo da due giorni a scrivere insiste è che non dobbiamo farle insistere quindi tocca a noi tocca che se no succedono le cose dell'anno scorso cosa che assolutamente non voglio più vedere quelle cose dell'anno scorso prendi giocatori li blocchi di tieni poi grazie al cazzo che a un certo punto c'avevamo lì sanchez ancora corre tutti tini di bartini quel no abbiamo preso luca così no come stiamo andando quest'anno per adesso per adesso perché poi il giudizio a fine calciomercato mi non mi dispiace affatto non mi dispiace l'unica cosa è che insomma avevamo fatto un po tutti il palato diciamo su questo trubin e sommer non l'accoppiata ma se questi sparano 35 giriamo subito da un'altra parte e cerchiamo di prendere un portiere con controcazzi sommer è un bel portiere però c'ha già 32 33 anni quindi sì per l'amor di dio due tre anni ti può fare ancora la grande però c'è bisogno la stiamo ringiovanendo apposta la squadra quindi ci vuole il profilo giovane basta ragazzi questo era il video ci aggiorniamo poi in questi giorni di caldo e di giubilo ci avviciniamo alla festa della curva no ragazzi quindi ci vediamo poi sabato dal pomeriggio fino alla sera sarò sarò in mezzo a voi sarò con mirco sarò in mezzo a voi insomma sarà la fe è una festa cioè è paradossale perché è arrivata tardi però è la festa sarebbe la festa di fine anno per comunque celebrare il cammino insomma le soddisfazioni che ci siamo tolti perché chi cazzo ce lo doveva dire a noi un anno fa però è già è già praticamente l'inizio della nuova stagione quindi si festeggia la vecchia ma si festeggia anche l'inizio della nuova perché quando ci incontreremo sarà già partito il ritiro e quant'altro prima amichevole ovviamente lugano però sto giro a porte chiuse mi sembra di aver capito quindi quella poi vedremo il risultato e commenteremo poi basta ragazzi condivisione dei video iscrivetevi al canale sempre forza inter mi raccomando continuate a seguire quei grandi interisti che di suarez neanche ma proprio manco per il cazzo ciao luisito la nord era lì oggi anche la nord dopo il bellissimo post che ha fatto la nord oggi era lì la nord con tanto di striscioni ciao